e la passano queste parole, quarto tocco in campanile 24-19 e si sceglie qui, Karina Pelugiani! La prima volta Beluccia scrive 25-20. Non passa, non passa, non passa la campionella, 24-20. Sì, sì, Veronica vi ha tirato i posti. Il scatto è il fanno alla Gona d'Azico Piuggera, 24-20. 18-24. E la chiude, la milina, chiude la milina, questo fantastico 3-0 nella turma Beluccia sulla Gona d'Azico Piuggera, seconda della classe. 3-0 in finale, 25-20, 25-20, 25-18. Impazziati. Vi doniamo i prossimi appuntamenti.